Ben ritrovati allo spazio dedicato all'ospite di TG Piemonte. In questo nostro approfondimento parleremo dell'aria che respiriamo, dell'inquinamento, inquinamento ambientale, dei cambiamenti climatici e delle ripercussioni sulla nostra salute. Perché noi respiriamo l'aria, ma quale aria respiriamo? Lo chiediamo direttamente e ringraziamo il dottor Secondo Barbero che è il direttore generale Arpa Piemonte. Grazie direttore per aver accettato il nostro invito per parlare dell'aria che respiriamo. Subito quindi lo vediamo in grafica quale aria respiriamo direttore. Sicuramente la nostra città di Torino, il Piemonte, la pianura padana in generale per quanto riguarda la qualità dell'aria abbiamo dei grossi problemi e non da oggi ma da decenni, si è già fatto molto attraverso dei piani di risanamento che prevedono delle misure strutturali anche di lungo periodo. Bisogna incidere su tanti settori perché parliamo di dover incidere sui trasporti, sulla qualità dei mezzi di locomozione, ma parliamo anche delle modalità con cui riscaldiamo le nostre case, quindi con gli impianti di riscaldamento e l'industria che è un altro elemento importante da considerare e non ultimo anche l'agricoltura che anche se diciamo in maniera più marginale comunque è uno dei settori che può contribuire alla qualità dell'aria. Quindi nella nostra regione dei problemi ci sono, sono attenzionati, vengono monitorati costantemente e i dati che stiamo rilevando ci stanno dando dei segnali positivi nel senso del funzionamento delle misure che sono state messe in campo. Ecco, Torino ha la maglia nera rispetto alle altre province del Piemonte. Torino per la sua posizione, ovviamente per essere una grande città, rappresenta uno dei punti nella nostra regione che è maggiormente intenzionata con dei valori che ancora per alcuni parametri non rispettano i limiti di legge, in particolare gli ossidi di azoto che sono degli inquinanti direttamente collegati al traffico e anche le polveri sottili che però sono un problema più generalizzato che non riguarda solo la città di Torino ma in generale anche i maggiori capoluoghi della regione e più in generale la pianura padana. Quindi le famose PM10? Sì, esatto, le polveri sottili PM10 ma anche le PM2 e mezzo che sono le polveri più fini che sono quelle dal punto di vista dell'impatto sulla salute umana che sono più attenzionate da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e che noi cerchiamo appunto di controllare e anche di capire soprattutto la composizione chimica di questo particolato perché alcuni componenti sono più dannosi di altri e quindi cercare in qualche modo di limitare l'emissione di queste sostanze inquinanti. Il 2023 come è andato? Abbiamo avuto tanti sforamenti? Allora, il 2023 abbiamo fatto un rapporto diciamo di bilancio e tra l'altro nel 15 di marzo verrà proprio fatta a Torino la presentazione complessiva dell'andamento in tutta la nazione quindi il rapporto nazionale sulla qualità dell'aria che si è scelto di fare a Torino e possiamo dire che il 2023 è andato meglio... Vediamo un'anteprima? Certamente, questo è un'anteprima, diciamo ci sarà il Ministero dell'Ambiente ci sarà il Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente con diciamo gli organi anche regionali e quindi è un momento in cui si fa un bilancio di quello che è successo l'anno scorso. Il 2023 si è chiuso meglio degli anni precedenti questo anche da interpretare rispetto al fatto che abbiamo avuto una meteorologia più favorevole perché abbiamo avuto più episodi di vento e quindi questo ha consentito di non avere concentrazioni particolari e anche abbiamo avuto meno fenomeni di nebbia quindi meno 25% di giorni di nebbia e 25% circa in più di episodi di vento forte quindi in qualche modo anche le condizioni climatiche ci hanno aiutato e abbiamo comunque... non abbiamo rispettato i limiti di legge per il particolato a Torino abbiamo superato per 63 giorni i famosi 50 microgrammi diciamo avendo a disposizione solo 35 della normativa. Ecco invece i primi due mesi del 2024 come sono andati? Siamo partiti abbastanza male perché invece in questo caso il gennaio e fino a una settimana fa abbiamo avuto un inverno molto caldo abbiamo avuto pochissimi episodi di pioggia tranne quelli degli ultimi giorni una grande inversione termica quindi con una concentrazione diciamo delle emissioni che rimanevano a terra che hanno portato ad avere circa 26 giorni di superamenti sui due mesi. non è una cosa non normale in senso che succede abbastanza spesso infatti i primi due mesi dell'anno sono sempre quelli che normalmente contiamo i maggiori sforamenti e quindi diciamo siamo più o meno in linea ma certamente che ci dobbiamo fare di più per poter limitare questi giorni che sono fuori norma. Ecco direttore questo è stato è un inverno davvero molto caldo? Guarda diciamo diamo qui un po' un'anteprima di quella che è la chiusura dell'inverno. Devo lasciarle la notizia? Di quello che è l'inverno meteorologico perché i meteorologi considerano l'inverno diciamo nei mesi dicembre gennaio febbraio quindi primo marzo possiamo considerarlo chiuso da questo punto di vista mettendo insieme i propri dati abbiamo visto che questo inverno è stato il più caldo da quando facciamo le osservazioni quindi a livello piemontese rispetto agli ultimi 60 anni ma a livello di Torino dove sono disponibili delle serie storiche che partono dal 1700 questo è l'inverno più caldo da quando si analizzano i dati quindi è un dato sicuramente preoccupante perché significa che quello che è l'aumento medio delle temperature che si stanno osservando sul pianeta, sul nostro territorio, sulle nostre Alpi sono amplificate e quindi bisogna fare molta attenzione a questo fatto teniamo presente che gli altri anni anche più caldi erano vicino ad oggi perché sono stati il 2020 e poi il 2027 quindi in qualche modo l'ultimo periodo di osservazione è quello più caldo rispetto agli anni passati Quali sono le vostre previsioni per il 2024? Allora diciamo che non facciamo previsioni sul lungo periodo possiamo dire che da punto di vista della situazione attenzione delle risorse idriche quindi della neve, delle risorse in acqua nei fiumi se fino una settimana fa c'era un'attenzione molto particolare si preannunciava poi una primavera che poteva poi determinare dei problemi anche di scarsità di risorsa idrica questa perturbazione che ha interessato in maniera molto diffusa e molto importante il territorio che ha portato piogge da domenica scorsa e che le porterà almeno fino alla prossima cioè fino a domenica a venire sta in qualche modo un po' bilanciando la scarsità di pioggia stiamo vedendo i fiumi che ricominciano ad avere delle portate normali in montagna ricomparsa la neve e questo diciamo fa ben sperare poi su un'estate che possa essere affrontata bene anche se comunque sarà comunque un'estate calda ormai ci stiamo abituando perché questi cambiamenti climatici ci stanno portando proprio a vivere anche una variazione di quelle che sono le temperature sì abbiamo osserviamo con l'analisi dei dati quello che è un aumento delle temperature estive ma anche quelli invernali come abbiamo appena detto avremo 40 gradi quest'estate di nuovo diciamo che non possiamo la probabilità di avere delle stati torride sta aumentando quindi non necessariamente quest'estate però la probabilità che lo sia c'è e quindi bisogna difendersi bisogna lavorare contro le isole di calore nelle città bisogna fare in maniera che le città siano più resilienti a questo tipo di fenomeni naturali Ecco, Arpa Piemonte su cosa siete impegnati direttore? Allora siamo impegnati da un lato a capire e analizzare questi dati sui cambiamenti climatici che possono servire per le azioni di politica volte ad aumentare l'adattamento della società perché sappiamo che oramai la crisi idrica e la crisi climatica in atto e quindi bisogna attuare tutte le azioni per rendere più resiliente la nostra società e dall'altro anche capire diciamo da parte di quelle che sono le azioni invece volte a ridurre le emissioni di gas e clima alterante quindi il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica 2050 come questo possa attuarsi in generale sul territorio ma anche sulla nostra regione Quindi una sfida che va affrontata e si può vincere solo su più tavoli? Si deve affrontare su più tavoli il tavolo politico legato appunto al tema delle emissioni il tavolo dell'adattamento climatico invece che riguarda tutti riguarda tutte le amministrazioni ma riguarda anche tutti i cittadini Ecco, direttore Barbero cosa possiamo fare noi nel nostro quotidiano per contribuire ad inquinare di meno? Allora questo è sicuramente un tema di coscienza collettiva e anche individuale In dotazione ambientale Certo, allora soprattutto capire che l'azione di ognuno di noi è importante per avere poi un risultato complessivo quindi se è possibile ovviamente ognuno per la sua parte far sì che anche nella propria mobilità giornaliera si cerchi di preferire quelli che sono i mezzi che in qualche modo sono meno inquinanti o comunque anche nuove modalità di trasferimento anche con l'utilizzo dove è possibile dei mezzi pubblici questo certamente può aiutare e anche nelle abitazioni ovviamente non tanto nei condomini ma nelle case singole anche le modalità di riscaldamento possono essere importanti per ridurre le emissioni inquinanti nell'atmosfera Quindi riscaldamento che deve essere sempre tornato intorno ai 21 gradi? Sì, anche 20 diciamo che nelle situazioni diciamo di maggior inquinamento si auspicava anche diciamo tra 19 e 20 poi naturalmente dipende anche dalle singole situazioni però dobbiamo tenere presente che ogni grado in più di temperatura nei nostri ambienti rappresenta come dire un contributo negativo all'ambiente che è un aumento dell'inquinamento Ecco, l'argomento è talmente interessante che il tempo è volato Dottor Secondo Barbero lo ricordiamo direttore generale Arpa Piemonte come possiamo chiudere questo nostro incontro? Ma io dico direi C'è già dato delle notizie che è stato l'inverno più caldo risalendo addirittura 1700 Sì, abbiamo dato appunto questa notizia come in anteprima ebbè possiamo chiudere diciamo anche con un po' di ottimismo nel senso che conoscendo quali sono i problemi e quali sono le modalità su cui agire per poter rispettare l'ambiente per poter migliorare l'ambiente in cui viviamo e questo diciamo ci fa ben sperare sul fatto che si possano raggiungere i traguardi seppur ambiziosi che ci siamo dati per poter come dire lasciare un ambiente più pulito anche a chi ci sarà dopo di noi In chiusura i blocchi dell'auto funzionano? I blocchi dell'auto sono una soluzione solo temporanea che serve diciamo in transitorio ma le variazioni che servono sono quelle strutturali sono quelle di lungo periodo Grazie davvero di cuore a Dottor Secondo Barbero Direttore Generale Arpa Piemonte e grazie a tutti i telespettatori che hanno seguito questo nostro approfondimento a Dottor Secondo Barbero